Milena Bertolini, le chiedo per un secondo di tornare indietro al 4 agosto del 2017. Quanta emozione e quanta strada ha fatto la Nazionale sotto la sua gestione? Il 4 agosto del 2017 per me è una data importante, è stato un momento importante nel mio percorso di allenatrice, perché diventare allenatrice della Nazionale è sempre stato il mio sogno e credo che da allora la Nazionale abbia fatto un percorso importante fino ad oggi per tutto il movimento. Dopo il Mondiale è davvero cambiata la percezione del calcio femminile d'Italia? Credo che sia cambiata la percezione perché il Mondiale ha dato un impulso fortissimo, ha fatto conoscere il calcio delle ragazze a tutta l'Italia e adesso la percezione della giocatrice di calcio è diversa, la bambina si pensa come calciatrice e adesso il calcio femminile si è messo in moto e non si ferma più. È stato un anno particolare eppur se tra mille difficoltà le sue ragazze hanno conquistato la qualificazione e i prossimi europei. Dove può arrivare questo gruppo? Le ragazze sono state veramente brave perché non era scontata questa qualificazione, è considerato tutto il contesto, la pandemia, ma soprattutto un girone con una delle squadre più forti in Europa. Questa Nazionale credo che possa crescere ancora, possa fare bene e poi dove potrà arrivare ce lo diranno solamente i prossimi europei. Ha paura che le aspettative si siano alzate troppo? È giusto confrontarsi con le realtà più affermate? Penso che questo faccia parte del gioco. Se vogliamo crescere, vogliamo migliorare, dobbiamo confrontarci con le squadre più forti, dobbiamo anche cominciare a sopportare un po' le pressioni perché è un po' il rovescio della medaglia, nel momento in cui tutti ti cominciano a conoscere, ad apprezzare e poi c'è anche questo aspetto. Ma credo che se lo riusciremo a gestire con equilibrio sarà un valore aggiunto per noi. Cosa la rende più orgogliosa del suo lavoro con la Nazionale? Il mio maggiore orgoglio è quello di aver fatto conoscere il movimento a tutti gli italiani e alle italiane, di aver fatto conoscere alle italiane il valore di queste ragazze e quanto sia bello il calcio giocato dalle ragazze. Sta provando tante giovani, si ragiona sempre più in ottica futura quando si allena una Nazionale? Ma credo che un ricambio fisiologico sia naturale e normale e quindi come commissario tecnico credo che sia normale per me vedere anche le giovani che stanno crescendo, il campionato ci sta dando delle indicazioni importanti, quindi credo che sia fisiologico e credo che sia giusto dare a questi giovani delle opportunità perché hanno qualità e poi dipenderà da loro sapersele sfruttare al meglio. Qual è il margine di crescita che l'ha sorpresa di più di queste ragazze? La convinzione, la convinzione nelle proprie qualità, la crescita nell'autostima, probabilmente noi abbiamo sempre vissuto con un senso di inferiorità rispetto alle altre nazionali e anche il modo in cui approcciavamo le partite o come affrontavamo le partite era un modo un po' troppo difensivistico e remissivo e invece in questi anni secondo me loro hanno fatto un salto a livello mentale, hanno cominciato a credere nelle proprie qualità che sono tante. All'inizio le ho chiesto di tornare indietro per un attimo, ora le chiedo cosa si aspetta dal futuro? Dal futuro mi aspetto 100.000 tesserate in Italia, mi aspetto le bambine che già a 5-6 anni vanno a giocare a calcio insieme ai maschi, mi aspetto squadre miste e mi aspetto un cambio culturale da parte della nostra società.